Presidente, Ecologia e Ambiente sovrintende all'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale Ato Palermo 5, in cui ci sono ben 16 comuni, tra cui Castelbuono, Cefalù, di rilevanza turistica evidente. Qual è la situazione? Principalmente io vorrei soffermarmi non tanto solo su questi due centri, quanto sul fatto che partiamo da un'area che ha prevalenza ambientale, fa parte del Parco delle Madonie, le basse Madonie. Quindi partiamo da Pollina per arrivare fino a Trabbia con un congruo numero di comuni inseriti proprio all'interno del Parco naturale delle Madonie. Questo ci pone dei problemi di carattere ambientale notevoli ed è proprio questo che ha caratterizzato la nostra azione incisiva nell'avvio e nell'organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti, special modo per la raccolta di rifiuti differenziati. I comuni principalmente più grossi sono, oltre che Castelbuono e Cefalù, anche Termini Merese, che presenta un'area industriale di notevole importanza con tutte le problematiche annesse e connesse alle tipologie di rifiuti anche che produce e che vanno smaltiti correttamente. Questo ci porta costantemente a monitorare la produzione dei rifiuti non solo guardando a quelle di produzione domestica ma anche a quelle di produzione industriale. Nella classifica dei comuni più ricicloni della Sicilia, ben 8 su 13 sono di sua competenza. Sì, questo è un… diciamo che io ancora sono poco soddisfatto, anche se dall'esterno mi vengono plausi per questi risultati raggiunti. Però il risultato per me personalmente è ancora poco soddisfacente. È lusinghiero, per carità. 6 comuni su 10 non è da poco su 380 comuni siciliani. Ma è un risultato che viene fuori da una organizzazione puntuale e capillare nel territorio del servizio integrato dei rifiuti. Un livello di raccolta differenziata sufficiente si può raggiungere. Perché allora la Sicilia rimane tra gli ultimi posti in Italia? Questo è difficile da capire perché vanno analizzate tutte le azioni intraprese dai vari gestori del territorio. Noi abbiamo interpretato questo ruolo come un ruolo preeminente nel coinvolgimento responsabile dei singoli cittadini nel processo di raccolta dei rifiuti. Principalmente formandoli e rendendoli parte attiva di un progetto più ampio che è quello della salvaguardia del pianeta. In queste piccole azioni ogni cittadino si sente pienamente coinvolto e allora prima ancora di buttare qualche cosa nel secchio della spazzatura riflette un attimo per capire dove e come collocare il proprio rifiuto. È questa piccola azione che noi abbiamo inteso far fare ai nostri cittadini che con molta intelligenza l'hanno interpretata pienamente e positivamente. I risultati sono venuti proprio per questo perché ogni singolo cittadino è partecipe del progetto. Non è solo la società d'ambito che ha solo organizzato dall'alto il servizio ma ha coinvolto i cittadini singolarmente. Presidente Ecologia Ambiente è molto impegnata con i giovani. Anche è partito un progetto impariamo a riciclare. Quanto è importante lavorare sulla sensibilità dei ragazzi? Guardi noi abbiamo potuto comprendere che al di là delle azioni intraprese per coinvolgere i cittadini come dicevo precedentemente l'azione poi arriva a un punto di blocco in cui se non si continua a sostenere un'attività di comunicazione specie con le future generazioni con i giovani partendo proprio dalle scuole i risultati non possono che retrogredire. Invece così coinvolgendo i ragazzi facciamo sì che le nuove generazioni si possono convincere della bontà del progetto di raccolta dei rifiuti in maniera responsabile. Oggi noi abbiamo avuto dei risultati anche di natura eccellente. In alcuni comuni, lei citava i comuni ricicloni, il comune di Aliminusa che è stato il primo assoluto nella graduatoria siciliana, nel 2008 ha raggiunto oltre il 54% di raccolta differenziata. Se pensiamo che nel 2007 è stato premiato con il solo 47% già c'è un trend di crescita ancora, ma questo è dovuto proprio all'azione costante di comunicazione che va fatta specie con i giovani e anche con le attività commerciali che spesso sono un po' correstie nel volere essere coinvolte in questo processo di coinvolgimento responsabile della raccolta dei rifiuti.